Musica Buonasera, siamo qui con la Televisuali e facciamo un'intervista a ragazzi che ci lavorano ad H-Risponde Cosa consiste H-Risponde? H-Risponde è un progetto per ragazzi con diverse disabilità in cui questi ragazzi imparano a usare il computer o rispondono al telefono insomma imparano anche come funziona il mondo del lavoro Di chi è gestito e da chi è finanziato? H-Risponde è finanziato dall'ambito territoriale del comune di Fano ed è gestito insieme a una cooperativa e l'associazione GFH Quante persone ci... no, quali sono i orari di apertura del pubblico? Dal domedì a venerdì alle 4 alle 7 Quante persone ci lavorano? Lavorano 8 ragazzi più noi due operatori, Martina e Francesca siamo Pensate che sia un servizio utile anche per chi ci lavora? Si, perché noi nella casa veniamo qui per imparare Tante cose che... che vi ammo le... le notizie e le... le portiamo al telefono per la casa... Chi vuole la crescita dei cause e noi dobbiamo stare molto attenti a queste cose per essere più autonomi a noi. È una bella cosa. Buone pomeriggio. Come possiamo leggere le notizie che noi veniamo pubblicate? Le notizie vengono pubblicate dai ragazzi su Facebook e ci trovate come H risponde oppure sulla pagina La Casetta degli Scout quindi potete tutte le volte venirci a visitare lì. Ok, grazie per la disponibilità e buon pomeriggio. Grazie a tutti.